halloween in questo video parlerò di halloween diremo dirò che cos'è questa festa le origini della festa poi racconterò brevemente la storia di jack o'lantern e vedremo insieme alcune parole relative all'halloween che cos'è halloween halloween è un giorno speciale per i bambini inglesi e anche per quelli americani lo celebrano il 31 ottobre il giorno prima del giorno di ogni santi halloween è speciale perché una festa notturna di notte i bambini indossano costumi spaventosi per halloween come vampiri fantasmi mummie streghe ma anche costumi di principesse re cowboy pirati superman batman fate eccetera qui diamo alcuni costumi i bambini bussano le porte e quando le persone aprono le porte dicono dolcetto o scherzetto annuse i miei piedi dammi qualcosa di buono da mangiare così è un po ridicolo in realtà una filastrocca in inglese con delle rime dolcetto scherzetto sarebbe trick or treat lo vedete lì sulla destra le persone danno loro dolci biscotti mele e altro ancora molte persone decorano le loro case con decorazioni come fantasmi scheletri pipistrelli streghe inoltre in italiano le zucche chiamate jack o'lantern ci mettono dentro delle candele e le mettono davanti alle loro case vediamo le origini di halloween la moderna festa di halloween affonda le sue radici nella cultura celtica i celti sono un popolo vissuto più di duemila anni fa e che ha dominato le isole britanniche vedete lì le zone di diffusione dei celti in colore giallo quindi siamo vicino alla normandia e alle isole britanniche halloween celebrava la fine dell'estate e l'inizio dell'anno nuovo che per il popolo dei celti cominciava il primo novembre i colori dominanti della festa erano e sono tuttora l'arancio ed il nero il primo l'arancio per ricordare la mititura del grano cioè quando veniva tagliato cioè il raccolto e quindi la fine dell'estate il secondo il nero per simboleggiare il freddo il buio e cioè l'inverno alle porte per questo si accendevano grandi fuochi per prolungare la luce e mantenere il calore inoltre si credeva che in questa occasione fantasmi e streghe fossero liberi di vagare in cielo e sulla terra da qui la tradizione di mascherarsi per spaventare difendersi da queste figure cattive infatti per lo più i travestimenti di halloween sono spaventosi ecco perché halloween è divenuta simbolo di notte stregate ed ancora oggi si festeggia mascherandosi la storia di jack lantern jack era un uomo tanto tirchio che quando morì san pietro non lo accettò in paradiso e il diavolo lo rifiutò nell'inferno fu condannato così a vagare sulla terra ecco qui jack che si distingue per i suoi atteggiamenti superbi sprezzanti il diavolo gli tirò un pezzo di carbone per aiutarlo a trovare la strada nel buio del limbo cioè un regno a metà tra il paradiso e l'inferno jack mise il pezzo di carbone in una zucca che diventò jack o lantern eccolo qui sulla sinistra jack che vaga con la sua zucca con all'interno la candela che accesa che gli fa strada la notte di halloween si può vedere la fiamma di jack bruciare come se lui cercasse una casa con l'aiuto di questa luce infine vediamo alcune parole otto parole di halloween fantasma in inglese si dice ghost strega in inglese si dice witch zucca in inglese si dice pumpkin pipistrello in inglese si dice butt costumi travestimenti costumes questa è la mummia mammy caramelle candies infine festa cos'è si festa party